Nei giorni scorsi Clarissa Selassie ha dato forfè in una intervista su Radio Radio. La conduttrice della trasmissione che l'avrebbe ospitata, ovvero Giada Di Miceli, ha commentato la vicenda senza peli sulla lingua. Così aveva paragonato persino Clarissa a Belen Rodriguez, accusandola di avere delle pretese manco fosse Belen, in sostanza. Nella versione dei fatti della radio, pare che l'intervista fosse confermata e concordata con Clarissa. Il redattore della trasmissione radiofonica avrebbe parlato con l'ex concorrente del grande fratello Vip, ma pochi minuti prima della trasmissione Clarissa avrebbe fatto sapere che non sarebbe stata presente. Giada Di Miceli ha ritenuto opportuno mettere al corrente i suoi ascoltatori su quanto accaduto. Anche perché i Fidelissimi aspettano sempre l'intervista al personaggio del momento, che però in quella puntata non c'è stata. La conduttrice si è chiamata fuori dalle responsabilità spiegando che non fosse dipeso da loro e non ha nascosto il disappunto. La Di Miceli ha spiegato che raramente è accaduta una cosa simile, e non ha nascosto che quando accadono degli imprevisti loro cercano sempre di risolverli. Stavolta sarebbe andata diversamente, però. La spiegazione della se la si è? Sempre nella versione della radio, la giovane ex Geffina avrebbe negato l'intervista perché non le hanno inviato le domande. La conduttrice della trasmissione non succederà più però ha chiarito che lei non ha mai inviato le domande ai suoi ospiti, e ha chiusato così, questo programma non funziona così. Noi possiamo dire di cosa degli argomenti che trattiamo. Credo che le domande non me le chieda neanche Belen Rodriguez. Tanti aspettavano la replica di Clarissa Selassie a Giada Di Miceli ed è arrivata oggi. Rispondendo alle domande dei fan su Instagram c'è stato chi si è complimentato con lei per aver rinunciato all'intervista su Radio Radio perché li farebbero domande molto scomode. L'ex Geffina ha risposto così.